Guardiamo le ultime due. Tolto il segreto di Stato sulle stragi, lo Stato confessa i suoi crimini e criminali. Io su questo tema del segreto di Stato trovo una polemica incomprensibile. Noi vogliamo un paese che sia il paese più trasparente possibile, un paese in cui i dati siano accessibili online, in cui la formazione della legge o del procedimento amministrativo non dipenda dal singolo amministratore o dal capo di gabinetto, ma dalla coerenza delle regole, dalla trasparenza, dalla chiarezza. E dove di conseguenza abbiamo mandato un sacco di faldoni fuori dagli archivi riservati nell'archivio di Stato a disposizione di chiunque, a disposizione dei cittadini, dei giornalisti, dei commentatori. Noi non dobbiamo essere il paese della nebbia, ma il paese della chiarezza. Dopodiché ho visto polemiche anche su quello e allora dico, vabbè, se siete nervosi ditelo, che ci dobbiamo fare. Matteo, che tempo fa domani in Sardegna? Questa non sono in grado di rispondere.